si è mal di culo si è mal di culo quindi col dottore va bene ma anche con l'assassino Luca addirittura siamo in live comunque signori mamma mia mal di culo è di culo è mal di culo si non pensa che a me mi ha detto no 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 non lo conosco non lo conosco non voglio io sono convinto che è lui no no la voce mi pare lui pur a me all'inizio no una volta l'ho beccato in gruppo con un altro amico e parlavo diverso ti giuro mi sembra grazie 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 oh però che mi vedi per il comino non so io bambino mo che ti dico attivo il drone madora ragazzo ti giuro stanno qua uno è un assassino allettaro l'assassino dovrebbe stare qua da sopra sta sopra lui si sa pure uno avari però uno è qua guarda guarda piano piano il piano sopra se riusciamo ha presa quella verso il botatore disaventatissimo uno sta qua eh va il cecchino sinistro da dietro basta sta occhio se occhio beh occhio da qua beh ci manca non mi piace occhio da qua dietro beh eh vaffanculo va da sta parte qua occhio eh il pallina caga proprio quel cazzo c'è il sentinella lungo occhio sa che come da facile qui io ho fatto mal de culo c'è bersaglio a terra bella sa bella sa è un mercato resta dentro ecco due belli che si sono messi belli fuori era buono te lo dico sta di qua sa granata via e guarda porta quella lunga qua dietro è sa aspett fai affalui amos granata via via ecco dietro sta dietro no no perché ti sei girato la granata ha tirato la granata è fuori ma poi era fuori ti ho fatto solo che una trappola no ma la granata era fuori si 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 ma no dove rimanete come stavi oh però troppo belli quei due lì in fila oh si sono messi si sono messi si sono messi uno a fianco all'altro tipo spara no aspetta ragazzi io quando non gioco da tempo ho bisogno di quelle due una o due partite di avvio no porca madonna che fa non vediamo dopo si 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 invito lo so se è preso adesso si è preso quello lì perché lo passa sulle mine prendete l'area e predisponete la connessione satellitare comunque muovere si muove si muove si muove abbastanza no no gioca bene gioca bene a me piace come gioca ma lo sai cosa che l'ha fregato una volta mi fa eh ragazzo dice io parlando con uno no fa dice fa dice io sono prestigio cento con col medico prestigio cento col medico allora per forza lui attenzione drone nemico rilevata attività osserva cosi della posizione bellico non mi muovo non mi ci stanno facendo rumore ah ci sono un picazzo coltimi arrivano e aspetta per me da una cura drone nemico rilevata attività osserva la posizione ragazzi uomo a terra uomo a terra porro dio ecco il primo bestemmione ho tirato su a brucio mi ha ammaffato ho visto mongoloide aspetta un secondo granata via i nemici stanno facendo rumore bersaglio 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 eliminato attenzione rilevata attività ostile merda uomo a terra resta un nemico chiudiamo la partita sicuramente è lì si avvicinati Luca avvicinati mi sta avvicinando bella bella rispetta tempo rete tempo rete granata bravissimo buona buona no ha fatto bene perché se no tiravo su un lice davvero aspetta un secondo arrivo grandissimo bravissimo buona ci sta buona ci sta santa madonna che ho fatto questo sempre sua lega io se mi chiamava perché ti metti ai cuffietti capivo cazzo fatta campagna di bucchia parco dio no no c'è una cosa indescrivibile oh di nuovo questa pallettina di merda granata via 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 granata figlio torna ah uno è sopra il palazzo augurio bella lui oh madonna oh e l'ha coperto e l'ha coperto l'ha tirato su il tempo che lo insegui l'ha coperto sto vigliacco grande tiro sentite perfettamente ma vaffanculo oh perco dio che c'è dai ne ero fatti tutte quattro un deceno no no questa è la live di tasse ma pure Luca però cosa ha fatto ce l'ha arrivato su rimasta l'ultima porta è ma sparata quattro ore per farci il cd e poi c'è quella nuova ho comprato un'altra tanto c'è già uguale tanto se fa la cinque gara venire via no ne compriamo due delle basse la guarda comunque ho sistemato le cuffie ti quale quelle grosse odio prevo gli ho rubato il nostro isolante siamo andati al lavoro domani che riporto il sistema dei cuffie luca con il nostro isolante nella contro 9 no no la modifica il dato di sordi loro mandorale come perché mannaccia la madonna di cristo non c'è stop o non l'ho preso mai non l'ho preso mai o uno ce l'avete dietro no abbiamo sbagliato tutto sta partita il primo ma chi è questa sua motocicletta rega io io scusate che ho tutti i morti non lo ancora siamo vive non branco di vipio erano marcati a 30 metri ci hanno fottuto proprio ma perchè se devi giusti argento un argento con lui argento uno ma perché non partì non partì che hanno finito passiamo 2 1 non mi ricorda ma come se faccio no ma mi sembra che attirio che ha il volume troppo alto no del microfono no è attirio che muove ai gusti io c'ho il ventilatore che mi spara addosso non posso poter non posso poter non posso poter siamo la partita bella madonna ma c'è un piccello proprio hai fatto che cazzo c'è se si è fatto proprio un bocca a culo 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 c'è la giocata paura paurosa testa di 1 9 3 9 se ne via ciao ciao martedì 9 2 che non vedremo scusa c'è provazio ma tutto sui cisioni la vera e che cazzo la maggio la parola tutto perché il verbo del vero sempre servì sempre che faccia la taglia faccia spara entra gavia non metto pure l'incremento attivo aspetta che non ma perché porca troeno oh a me non mi fa mi viene solo l'ambitaggio aspetta te invito che avete votato l'evento? pistolero o zero info? io ho votato quella a sinistra no io ho messo pistolero volevo vedere com'era quella solo pistoletta e la gente che andava a giro quello che è pistola intanto c'è sabato e domenica tre topi è morto seal and rough a seconda secondo me non c'è una squadra so 3 e 1 secondo me invece c'è proprio una squadra no già ho visto eeeh ehi la squadra ho giocato uguale adesso come andiamo d'accordo giù da una parte e giù da un'altra se noi abbiamo votato tutti a seconda loro non sanno tanto d'accordo quindi dovremmo essere una squadra più unita dagli rega attaccante partimo da sotto aspetta da sopra no no da sotto da sotto si scusa attaccante atti si mira quelle due e se spara quere due sulla mappa come la vede la mappa da sopra si guarda che sono tre giorni che stavo a giocare questo l'altro giorno ho fatto pure lui diceva da come guardi la mappa io ho giocato a break da come guardi la mappa di sopra da sopra si da sotto perché fai la salita eh si si da sotto adesso da come la guardi sotto no da come la guardi sopra si scusa sopra ma leggi i piazzon amo allora con questa faccio dietro col drone riguardo erati non c'è sta cazzo bravo guarda quell'altra mappa il vento più a dentro che sta biblioteca raggiungete un trasmettitore e avviate la trasmissione attivi all'ombrello spari un'ombrellata drone in volo drone nemico sulla testa 1 qui l'altro qua sopra non capito perché non ha marcato un cazzo in mezzo nessuno in mezzo sta in scena e l'altro i due penso che non avrebbero visto a sinistra che dovrebbe stare destra qualcuno a destra grazie bravo sa qua e mezzesi lo sproprio nessuno uno qua su sto cercando a mancatelo o marchi a te questo qua su nella collinetta nessuno parco dio parca madonna spara una micidia madonna che macello dove stava stava sulla collinetta in alto non ce la fai a prenderlo ce la fai a tirami su così no aspetta che stascia gli va a cagare il cazzo aspetta no no ti fa ti fa ti fa così no destra ma che non mi ha marcato mai nessuno sto cazzo petroni o luca dimmi te infatti un ventilatore nuovo ma non so io aspetta che c'è il ventilatore si si mi puoi spostare via l'avvio non valga ma via l'avvio l'ho preso tutto a quello di l'argento 2 ha fatto chi era tutto ha fatto tutto show ed è quello che ci ha tirato giù tutti e tre no ci penso io tranquillo e così anzi mi piova la classe mia quando state in fabbrica ando state c'è il mitra ieri dentro a casa marco dio regalo il ventilatore no ma se cosa puoi fare attire abbassi solo un po il microfono il tuo microfono non è vera vabbè lo fai dopo lo fai dopo dico quello era un ventilatore che poi tu hai trasformato in ventilatore nuovo l'ho messo il motore della ferrari 399 giocano pure strano vanno giù stanno giù a sinistra vedi non vedo niente il drone subisce cazzo domine sulla 2 me ne vengo di là coprite larghe a sinistra oh stanno a tirare a fumo stanno a tirare a fumo granata granata hola stronzi oh ma fatto tira giù granata attenti mi stanno sorvegliando posso spostare non posso mo ce la fai ce la fai a tirare a misura pure così vai mi fai male guardi sono non mi muovo mi sfervo minchia quanto mi hanno rotto veramente la minchia guarda me guarda me guarda me si è riuscita è un'altra si sta cura si sta cura si sta penso a te push all'artiere push all'artiere si sta cura si sta cura oh sta l'adrenalina è so tre volte porco dio è passato davanti a tutti e tre non è niente lo sento oh qua va vaffanculo lo sento era vicino la mina vicino la mina rossa ecco lo sa si beh tira su tira su tira su no no perché non mi hai tirato su no dai fialotti tirami su tirami su no raga ma anche noi due dietro fateli fare in culo tanto tanto lui si dobbiamo difendere non lo sfida da sanadrenino no son due no 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 come ho fatto no come ho fatto sono nato di quasi no no ma davvero sta di eh si ma perché ma perché non siamo tirati su lo lasciavamo stare no non ho capito perché tanto tanto non me ne ero accorto che salate per terra raga non me ne ero accorto no quando hai scavalcato quando hai scavalcato io ero lì ma sto connettendo ancora beh cerca da iniziare a connettere subito va eh sto fa una fatica ciao bella è carina una saluta ciao bella è carina che non è raggiungete un trasmettitore e abbiamo la pazienza no 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 attenzione rilevata a ottività ostile attenzione drone nemico ben giù capo per modo allora di mezzo ci lo so rilevata a ottività ostile nemico attento così beh no vabbè ma sempre io moro scusate rega stavo in cura oh ti tira ti tira via via no porco dio per venire t'a cura che cazzo vuoi su su sta in collina su no vabbè no vabbè non mi muovo è a terra adesso tira su niente di grecia no no ma se stanno a tira su pure loro ti farà male ma è sposta è sposta è sposta e tu che sei sano io sono un po' che ne legge porca niente no ti tirate così sto provando è passato qua aspetta e va attiva fa lui vieni qua aspetta aspetta va attiva la 2 eh lo sapeva ho sentito porco dio mi ha voluto la retta sono riuscito ma io sto attivando gaso sta sta qua sotto si va bene vabbè cioè sono fullato ma macchi così dove cazzo è questo qua eh sta tira su quindi sta qui dietro non è niente sta andando verso radio 2 no no più occhio è un altro sta su radio 2 nooo guarda come va ah buono attenzione eh porco dio vaffanculo bella c'hai la spia e ce l'hai ultimo per chi da la spia e ce l'hai furia eh no è un attivato non c'è la madonna raga l'abbiamo cagata questa colpa nostra so due so due che e se cagamo così che potremmo vincere tutta la partita tutta la partita la prima no ma io ho giocato bene fino a una certa e poi all'ultimo se siamo diviati sotto no raga ma ma io io non sto quadrando mi rendo conto che non sto si da me vuole manè non sto quadrando io proprio me se ho fatto una settimana di malattia sto a fare una fatica eh ci sta dai che può stare si non ci ha giocato eh ma no ieri un po' di partite l'ho fatto la seconda raga la seconda la seconda la seconda la seconda vuoi vuoi si no no la terza ma mi sembra mi sembra che la prima che si vuota passa se fai pareggio a volte capita pure che la seconda che vuoi è l'ultimo no no so come è funzionato ora una volta fa come di vedere una volta fa al contrario no 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 una mappa enorme così non abbiamo un drone in capigliaio la prossima rovina vabbè stiamo vicino al punto di connessione no no chi è che sta a scovare gà sta a scovare sta a scovare eh aspetta no che c'è un caldo lo sto dicendo a sudare ma quella che la compro da quale c'è la dore da 7000 euro ma allora sei stroncio non lo posso accendere adesso che sto male tutto detto c'ho l'influenza ma lo metti in deumidificatore da 27 ma non scherzare metti a deumidificatore ma tu vuoi fare che quello spara è un drago sai come spara e che ti fa sa ti giuro metti in deumidificatore e una scenaria fredda che fa paura e allora muori che vado a me muore muore infatti mi soffio c'è le conviene una gioca a tennis cioè io si non accendo il ventilatore qui io io se mette tutto la prima mette valdico ma tu ce l'hai condizionatore no ma tu l'ho fatto a ti è la cosa più bella che c'è fattelo ma quindi rega ma non raffredda consumava come come il suzuki di tara rega ma com'è ho uno in alto oh porco dio mi sono riuscito a muover stai no tutte qui sulla destra oh però porco dio non muore però eh io capisco tutto quello che vuoi bello no fanculo però ragazzi vaffanculo però quanti colpi gli ho tirato sto piazzando una mina oh io ho fate no no aspetta fama una roba io riavvio il mole ma va bene che è un po' so io vai per una riavviata uno preso oh no 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 questo qua beca in furia però minchia buono lo cazzo lo sai come sono messo dove sono aspetta atti che arrivo un momento ma dove sono tendio eh prima erano su occhio che non ho messa la mina io c'è no no vabbè va no 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 cazzo che stronzio lo so lo so solo a morì lo so la morì tutto bene ti hallo lui ti hallo ah eh mi è sparito dietro l'albero andate in due a farvi quello lì che c'è da me andate in due che uno è di là e l'altro è dietro granata uno sta qua luga la scena è da qua non lo vedi guarda tira su peppe però no di là ce n'è uno proprio dove ero io ce n'è uno sceso sceso è morto lascialo lascialo è morto è morto lascialo grazie resta un nemico chiudiamo la partita piado rt non posso muovermi da qui granata granata eh baffa forte nemiche neutralizzate ottimo lavoro bravi bravo un cazzo io non lo so mi sono messo a fare dottor house della situazione ma tosto fa solo morti tanti in me però mi hanno rotto quasi quasi schiazzi oh ma che in me pio tanti in me pio è per l'illustratore no Mattiglio si è preso no aspetta 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 oh poi come lo so no io vedo se magari con il set con me riuscimo a staranno qualcuno ogni tanto no però stiamo coperti ragazzi facciamogli fare gioco ai cecchini sa tu qualcuno se riesci questa vicina troppo te lo fai dalla lontana ma perché non dà piaciuto come va a marcargli scusate no no però se vuoi giocare anche così tu voglio andare troppo sotto stiamo vicino è una bella tronatina un satano al centro una da mettere lì a te stanno passando all'anno una è passata dall'adesso dalla rosa sinistra uno qua ecco occhio che uno ce l'hai qua aspetta sì vabbè qua due ce n'è raga uno di questo muretto qua sotto la marcatura evitata occhio che ce n'è due lì sa sotto attacco cazzo occhio all'assassino sto piazzando una mina eccolo mi sparano sono fottuta visto lì davanti oh mi hanno marcato costruzione di merda ecco là ho visto mi sparano mi sparano oh ma io ando cazzo passo mannaggia la madonna oh secondo cazzo non cazzo non l'ho visto madonna non vedo un cazzo oggi bisogna un quadro ho messo una passarella era prima e una era sotto eccolo eh vabbè rambo giocano giocano bene però comunque aspettiamo troppo matto aspettiamo troppo di di luana di guardare instagram di fatti vedere il video che gli ho mandato luà luca scegli luca nooo nooo vede dal volo cecchino datte la cazza ai nemici nell'aria nooo 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 lancio così a due granatine così al bolo ci sta ah suga mi spara non sono fattuto come ha fatto questo e mi deve sparare sempre un altro sempre il dietro è dove è morto qui c'è un altro bello sempre quell'arbero che vi ho pingato ricordatevelo lo vedo bellissimo ragazzi a me mi fanno all'istante non è possibile cioè all'istante bravissimi occhio che c'è un cecchino mi ha tirato giù a me è una spia non ho sentito sparare a me mi fanno con un colpo uno va a più la torre e l'altro il giocatore non è possibile c'è che c'è un manoletto vuoi ricordare se ce la vede atti gli stai sui cadaveri atti scusa tu stavi lassù eh si è la spia però mi ha sparato può essere che mi ha sparato da qui sotto da voi mi ha visto e mi ha sparato uno rimane nei tuoi cadaveri da queste parti qua da queste parti qua uno che la torre è tanto evattiva la torre di ricognizione è online mi ha ammarcato uno è una spia un cecchino un precettore no è un precetto allora allora toccare per forza la torre non lo so questo sta sotto sta sotto a guarda qua rimanete sui cadaveri uno no io mi sono spostato no per me che sono stato a sei pizzi regalo mi muoviare la torre rimani sui cadaveri che si ce fa il giro che faccio forzo o provo a tirar su no tira su a Luca ehi abbiamo delle mine anti uomo oh disnesca mine ah ok sta su da me sta su da me ho messo la mina spara io qua la cazzo di mina che se frega oh dai ma sei scemo era pure la mia ma mica l'ho vista la tua ma da dove ti ha sparato non ho capito ma che gli ha sparato ha sparato lui la mina mia ha sparato 2 però stavo fuori dal cerchio dal cerchio arancione dal cerchio blu vai a chi partito di cene punitiva dai rimango con pochi di cadavere io provo a mettere un attimo la torre di ricognizione così magari lui mi spara e mori mette da furia ok da destra vai 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 no da dietro da dietro via 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 va da dietro da qua va qui a me va più va fiacca all'albero era no sei morto sanguinamento no sei morto questo odolo qua mi sembra che era oh no questo questo sa questo sotto mi sa che era questo buono buono aspetta allora qui o vatti la sua cravatta verde può essere una spia ragazzi era una spia non lo marcava no è in frecetta è in frecetta si potrebbe essere in frecetta si no no non è potrebbe essere te sono arrivate tre frecce no affianca a quest'albero la spada io l'ho visto si comunque la spada è a fianco di qua dove adesso sa tanto non lo pio ma perché non mi sei venuto a tirare su o a tirare su pepe dove è nata una cosa inutile adesso tanto si è spostato sa tira su prima a me che magari mi si è perso eh no che tira su a te sta lì guarda il punto d'accesso no per me se sta vicino ai cadaveri che cagatemi fanno morco addio anzi magari sentiamo qualche rumore ma sui cadaveri c'hanno ancora le puzzettine a parte che lui ci sale sopra non gli arre con cazzo ma la devi tirare su o io sparo o la tira su io non si spara con la frecetta amico ti ho sentito a destra si fu io su ahahahah le orecchie ti hanno aiutato eh ma infatti troppo casino facciamo ma io sono una cosa inutile stasera quanto è vero di dio sempre mi hanno fatto sempre eh piglio un drone si ah no aspetta piglio che piglio un medico va bene basta che c'hai la termica io bello scout allora si si buono raga chiamatevi i droni ah ne tira tutto il tetto insieme ah no io tiro su per curare no parti subito prima te prima che attiglio quello si il primo si vado la caccia ai nemici nell'aria ok i foto non c'è stato la dove si mi parla ok per il libro di tutto dentro ho bisogno la scuola l'ora di loro la stanza c'è ancora c'è la torre un nemico sulla torre sulla torre sono sotto fuoco pesante ok se riesco te lo marco, è quello lì sa quanto c'è il drone beh metaneo qui vicino no ma cura ma cura avete visto c'è il balestra a destra si si vado a rettina ce l'ho il medico eh ok ok sta curato sta curato oh lo vedo lo vedo lo vedo dove cuorei occhio eh dove lasciamocelo 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 no sono marcato porco dio torno indietro quando stava non l'ho visto che era marcato qui da se parti eccolo la torre di ricognizione è orale la torre di ricognizione è orale la torre di ricognizione è orale i nemici stanno pure da sopra rega le fanno a chiuda si si pure da sopra è qualcosa quasi morto bravo uno preso ah vaffanculo coglione attenzione rilevata attivazione un altro un altro un altro qua dove sei? vai a vederlo no non lo vedo tirate su un drone raga aspetta che trovo un punto coperto vado tiro su vai tu dai oggi però uno raga qui c'è raga sta qua ho la sparata da ste parti non posso muovermi da qui attenzione drone nemico m'hanno marcato eccolo aspetta 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 oh la freccia mi è arrivato raga vedete iron hat no vabbè ok buono ok mi ha fatto mi ha mandato in da dove? il frecciataro e poi mi ha ammazzato con la cazzo di peretti con la puzzettina no no ma lì mi puoi rianimare tranquillamente almeno che non siamo almeno che non siamo un po' rianimabilissimi un momento un attimo grazie sui droni no vado io vado gli aspetti non lo posso marcarlo con il drone ne lo spara che sono in due sono sempre lì c'è un altro eh c'è un altro droni 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 non ne ho più me l'ha scoppiata adesso però l'ha tirato lui sto giro cercalo eccolo 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 attivo vedi ci vediamo all'inferno basta di abbassati ok seguilo se non te lo prende dall'alto abbassa di cordrone vola tocca che tu via perché stai troppo forte stai dietratti no ma con l'arberi e le cose prima copiava poi non copiava capito mi stava a mandare il maricone 7 morti ho fatto 7 morti oggi come me guarda aspettavo un secondo raga non vi rompete il cazzo se riabbio un secondo il modem aspetta che fatevi intanto fatevene una magari ma luca che ha fatto arrivo che abbandonato boh perché me ha detto che doveva riavviare modem ma vabbè ma ero io il capogruppo c'ha ragione ma hai c'ha ragione riavvio eh riavvio ci sentiamo ma potrò farciopo si muovaccia raga già per tutte le cognizioni proprio lo? lo ha? ti a posto? bravo bevo una birra ma diciamo che ho fatto più partire il cazzo brava io che lì mi ha fatto comunque a sorte siamo stati più intelligenti noi abbiamo giocato da squadra si 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 no non mi ha fatto nuovo perché no e te sarà bagliardo pvp del giocatore si è sposta meglio certi movimenti riportendo six che vedo se metto da lato guarda che si è mette già del lato pure adesso su questo quattro si fa diverso però hanno solo su questo visto a mondo ci hanno messo pure di questo ma no non lo fa così se tu le metti vicino a muro adesso fa si piega ma se venga per piegasse no come faceva prima che pareva faceva finta allora si deve avermi cercato questo e secondo me l'hanno provato prima giocando cioè non giocando c'è di me non facciamo il movimento lì era movimento che c'è in usura in motizio è quello che hanno messo però sul rainbow six e lo fai tu proprio con i pulsanti invece su di bossa da quando lo fa io su questo su questo non ci faccio caso su black point se vedeva cioè dentro dentro ai posti ha chiuso proprio che gli altro male che stai a per il strada vero l'appartamento non vedo risposta del lato degli altri questo non va così non so come va ma non è uguale vabbè io penso che faccio questo stacco comunque che c'è sorta di vipa